Le migrazioni sono uno snodo politico importante della società odierna. Rispondere a questa realtà è una necessità che nasce dalla consapevolezza che i bisogni e i diritti delle e dei migranti sono bisogni e diritti di tutte e tutti noi. Nasce da queste convinzioni per cambiare l'ordine delle cose, il forum territoriale che si terrà domenica a Villa Buri, un'iniziativa a cui hanno aderito ben 21 associazioni veronesi come il Cestim, Traguardi, Diritti per le nostre strade, Fondazione Nigrizia, CSV, One Bridge to I Domeni, Africa Friends. Il forum nasce da un film di Andrea Segre, L'Ordine delle cose, e da lì la società civile si è chiesta cosa possiamo fare dopo aver visto il film. Quindi da lì è partito un movimento che si chiama Per cambiare l'ordine delle cose attuale. Verona è una delle città, anzi la prima città veneta che sta raccogliendo adesione e soprattutto sta adottando questo forum che è stato fatto a Roma il 3 dicembre. Gli obiettivi di questa giornata di incontro e di riflessione saranno tre. Discutere e approfondire insieme il manifesto nazionale, proporre metodi di azione e comunicazione per portare proposte all'attenzione dell'opinione pubblica sia a livello locale che nazionale e poi dare il proprio contributo concreto nella creazione di un messaggio condiviso da inviare al Parlamento europeo. Non solo le associazioni sono invitate ma anche i singoli veronesi perché il cambiamento delle politiche migratorie e delle iniziative locali deve partire dal basso e sia il più possibile orizzontale e condiviso. Uno dell'obiettivo del forum è intanto riunire le forze che esistono sul territorio sia nuovi ma che anche vecchi. Queste esperienze possono essere un esempio da esportare perché ci sarà la seconda tappa del forum che verrà fatta il 10 febbraio a Padova che riprenderà il risultato del forum di Verona. Quindi a Verona ci sono varie cose che noi auspichiamo che anche in altri territori possano utilizzare come esempio così come anche noi prenderemo degli esempi da altre città per utilizzarlo qui a Verona.